amici di coste viola news buongiorno stamattina caffè con piero francesco zoccali intanto buongiorno e grazie per averci per ospitarci in questa tua agenzia piero buongiorno sei sveglio si abbastanza caffè già preso caffè già preso anzi ora li facciamo portare due così lo prendiamo in diretta altrimenti la trasmissione è un caffè con il caffè che rapporto hai col caffè ne prendi molti pochi drogato drogato di caffè va in agenzia vede pure la macchinetta per per una iniezione veloce fugace a volte essendo circondati in una zona comunque molto commerciale di bar attività commerciali cerchiamo sempre di privilegiare il commerciante locale diciamo così quindi lo prendiamo la prendiamo al bar poi qui da noi comunque il caffè è sempre un'occasione si dice che noi al sud siamo quelli del capo che prendi il caffè vieni che ti offre il caffè ma non è il caffè in sé più gli altri il gesto gesto della condivisione con la condivisione i rapporti oggi con te parleremo di turismo piero siamo quasi quasi alle porte dell'estate ufficialmente il 21 di giugno però di fatto il caldo di questi giorni sta spingendo molta gente a raggiungere le località di mare soprattutto nel weekend ma già da noi anche scilla devo dire tutti i lidi sono attrezzati qui a bagnare siamo quasi pronti per questa stagione estiva insomma qualche stagione estiva immagini tu piero ma guarda mi aspetto comunque una stagione estiva in linea con quelle che sono state le ultime stagioni ovvero le statistiche del turismo denotano una un calo se così si può dire inutile nasconderci dietro il dito di alcune zone della calabria mentre altre comunque mantengono il proprio standard a livello abbastanza costante diciamo che siamo in questo momento parlando ovviamente di turismo per quanto riguarda le nostre le nostre zone siamo un po impelagati in in una situazione della quale è difficile un po trovare il bandolo della matassa perché siamo sempre qui a ripeterci le stesse cose cercare un attimo di capire quale può essere il nodo gordiano che faccia scattare finalmente questa molla del turismo delle nostre parti però puntualmente diciamo ogni anno aspettiamo sempre luglio agosto per il cosiddetto turismo di ritorno che a conti fatti non è un reale turismo ma è più che altro l'emigrante che ritorna viene a far visita i parenti sono la visita parenti sì assolutamente non è una tipologia di turismo disprezzare tutt'altro perché comunque bagnare in questo periodo parlando ovviamente di bagnare ma potremmo parlare di altre località della provincia dicendo le stesse cose in questa situazione comunque i paesi come il nostro crescono notevolmente per quanto riguarda l'afflusso per quanto riguarda sicuramente la presenza fisica di persone all'interno del paese se noi mediamente contiamo dalle 8 alle 10 mila persone arriviamo anche a 12 mila se così vogliamo dire in estate naturalmente quello che bagnare così come altre località turistiche rinomate della nostra zona dovrebbero puntare e quello di un turismo di massa o meglio lo sogniamo perché immaginiamo le cinque terre noi ma non la costiera amalfitana che ne so diciamo che negli anni passati ho attirato qualche risata quando comunque facevo riferimento parlando anche comunque nel mio breve trascorso come presidente dell'associazione commercianti ho parlato qualche volta di bagnare come il modello della costiera amalfitana più che altro relativamente alla costa viola perché nel mio immaginario abbastanza fantasioso vado a immaginare bagnare scilla palmi seminare comunque queste nostre zone un po come la l'odierna costiera amalfitana naturalmente torniamo sempre lì magari ci diciamo sì ma noi non siamo a quel livello non siamo non siamo amalfi non siamo positano non siamo ravello però ovviamente parliamo di località turistiche che hanno cominciato tanti anni fa assolutamente hanno cominciato molto prima di noi a livello di potenziale non abbiamo nulla da invidiare assolutamente agli amici della costiera amalfitana anzi abbiamo delle zone che potrebbero veramente generare un indotto turistico notevole sotto altri punti di vista sicuramente non siamo preparati per quanto riguarda infatti il nostro carissimo amico da roma che ci sta seguendo peppe careri ci ci chiede insomma i posti letto dove sono perché fare turismo significa principalmente avere servizi quindi avere posti ma guarda innanzitutto saluto il caro amico giuseppe che è anche uno degli amici che rientrerà nel periodo estivo naturalmente poco prima che mi interrompesi stavo per l'appunto per dire questo e lui a fretta che a roma sarà in metro in questo sarà in metro starà morendo di caldo noi invece lo facciamo morire perché poi nel pomeriggio ce ne andremo un po a gustare il nostro mare seduti con una bella granita ma non è non è così non sarà così una bella granita perché si lavora chiedo prego no secondo punto come stavo dicendo non solo per quanto riguarda i posti letto ma in generale la capacità ricettiva la capacità di accoglienza anche una preparazione di base perché comunque prima di iniziare a parlare di turismo di massa si deve preparare un paese una zona comunque una località turistica ad accogliere notevoli numeri per quanto riguarda il turismo come si arriva a tutto questo naturalmente i miei sono le mie sono semplici riflessioni non è che la bacchetta magica la bacchetta magica o la risposta a tutto si arriva sicuramente con un percorso costante nel tempo a partire anche dalla formazione delle attività commerciali perché le attività commerciali sono un traino per quanto riguarda sia l'afflusso sia l'accoglienza parto da una cosa che potrebbe sembrare banale mi viene da chiedere quanti non solo a bagnare ma in generale quanti attività commerciali parlino fluentemente inglese o comunque quanti magari di noi siamo preparati a dare accoglienza ad un turista che viene a chiedere informazioni turistiche quindi tante volte magari parliamo di tracciolino parliamo di monte cucuzzo parliamo di costa viola in generale di sentieri però all'interno delle nostre stesse non solo attività ma nei nostri ambiti locali molti di noi non conosciamo neanche tante di quelle che sono le bellezze locali se dovesse venire un tedesco un francese un inglese a chiedere che cosa c'è da vedere in costa viola corso la via marina la torre ruggiero che peraltro non è accessibile quindi siamo un po noi stessi anche essere rischiamo di parlarci addosso rischiamo rischiamo di girare costantemente su noi stessi quando invece i contatti vanno cercati fuori sicuramente apprezzabile il lavoro di chi si sforza comunque per portare gente nelle nostre parti di chi porta gente a visitare i sentieri di chi porta pullman a bagnare ma non solo bagnare anche magari scilla perché palmi io vado spesso a scilla tante volte anche per lavoro vedo comunque che scilla è frequentata per quanto riguarda l'afflusso di pullman turistici di vari tour operator quindi scilla alla fine è 5 10 chilometri da noi voglio dire perché la stessa cosa non si può fare a bagnare dice giustamente giuseppe i posti letto ma non è soltanto un problema di posti letto perché comunque bagnare può essere anche una località di passaggio so che in questo non è magari una cosa bellissima da dire però il turista che dovesse venire dalle nostre parti non deve interpretare bagnare semplicemente come un punto di arrivo ma può interpretarlo anche come un punto dove magari andare a trascorrere una giornata dove magari andare a prendere un gelato dove andare a prendere una granita quindi creare un indotto costante nel tempo creare le condizioni perché si possa arrivare a bagnare non sia solo un turismo di quelli di ritorno come 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 l'amico peppe insomma si spera di poter venire qui a bagnare spera di poter vivere una vacanza tranquilla serena con i servizi con tutto quello che c'è anche se in questi giorni piero in quanto a servizi insomma la raccolta di zoppica ci sono problemi addirittura oggi la raccolta non è stata effettuata perché la ridiscarica di san batello è chiuso e quindi i problemi non mancano queste state questo può essere un problema serio per queste cittadine allora questa è un'altra nota dolente che però riguarda comunque un aspetto interno ora non voglio dire che bagnare abbia tutti i maggiori problemi della faccia della terra siamo tanti comuni in questo momento che soffriamo per primo parlato di scilla penso agli amici di palmi dove comunque ho tanti amici anche lì a palmi ripeto la raccolta li funziona abbastanza bene la spiaggia è mantenuta molto pulita peraltro dalla stessa ditta che che lavora anche da noi chiudendo un attimo il discorso di prima così possiamo diamo ci dedichiamo anche ad altro che certo il discorso che facevo prima relativamente al rapporto con costiera amalfitana con cinque terre da che cosa è nata questa questo mio accostamento questa mia analogia dal fatto che se noi iniziamo a interpretare bagnare scilla palmi seminare la tonnara diciamo a vedere la costa viola comunque in generale come un unico blocco di recettività turistica allora in quel caso si può cominciare a dire sì la costa viola non più bagnare ai posti letto strutturare quindi un'offerta condivisa tra 45 località turistiche vicine tra loro alla fine penso che tanti siano andati da quelle parti dalle 5 delle 5 terre in costiera e tu attraversi tanti paesi penso la citata costiera amalfitana attraversi tanti paesi tante volte cambi anche la località turistica non ti rendi conto di essere passato per esempio da maiori a minori questo che cosa ci fa capire che alla fine quello che è più importante non è tanto l'individualità del singolo paese quanto piuttosto la capacità ricettiva globale e i servizi che si riescono a mettere insieme tra diversi comuni ovviamente non mancano in tutto questo i problemi perché inutile nasconderci dietro il dito la problematica della raccolta rifiuti è sicuramente un nodo importantissimo che l'amministrazione ha come palla al piede da risolvere sicuramente non è un problema di facile risoluzione però quello che ritengo sia abbastanza condiviso penso da tutti è che il problema della raccolta differenziata o non differenziata a seconda che sia è un problema a tre facce ovvero i cittadini devono prendere atto che comunque hanno degli obblighi dei doveri da portare avanti che sono quelli di fare la raccolta differenziata ma in questo caso io so di tantissimi cittadini anche tantissime attività commerciali che lo fanno comunque si stanno impegnando si stanno dotando dei mastelli per poter essere per poter essere preparati a questo cambiamento è un compito di amministrazione e di sorveglianza da parte dell'amministrazione perché nel momento in cui io cittadino non faccio la raccolta in maniera corretta è giusto che io sia sanzionato è un compito sicuramente di rispetto di un contratto da parte della ditta perché nel momento in cui io ditta azienda quello che sono mi impegno a fornire un servizio di raccolta rifiuti e non lo porto a termine come io azienda vengo sanzionato se non rispetto un contratto per esempio con un tour operator o con un franchising la stessa cosa deve essere sanzionata la ditta deve essere richiamata ma ripeto questo è un compito sempre dell'amministrazione non solo di sorvegliare sulla corretta ed efficacia raccolta dei rifiuti ma anche di sorvegliare su quello che effettivamente la ditta esegue nelle nostre zone perché ripeto la Locride so che è una ditta anche molto grossa molto importante che altrove sta facendo bene non si capisce perché non ci riesce più a bagnare ripeto noi siamo sempre di settimana io ti interrompo perché tu non hai bisogno di input perché vai alla grande fine settimana però non so chi volesse venire a bagnare qualcosa da fare lo trovo a partire da sabato 15 giugno foto i crociere sta offrendo insomma questa delle cene delle cene su questa imbarcazione e pesce spade in crociera quindi poi chi vuole nelle pagine facebook può e questa è un'iniziativa di sabato sera poi domenica invece c'è la scoperta di gramacce sono delle associazioni locali che si stanno impegnando per valorizzare e spingere questo questo territorio noi lo abbiamo detto prima ci troviamo in questa splendida agenzia in una location veramente molto bella un'agenzia arredata e sistemata con gusto efficiente puntuale precisa nelle nel rispondere alle richieste tra l'altro offre servizi veramente a 360 gradi perché quando si entra qui si parla di wedding si parla di travel si parla di grafica quindi oltre al turismo ai viaggi all'agenzia perché piero era nato così diciamo come agenzia viaggi negli ultimi tempi ha allargato ha allargato gli orizzonti e li ha allargati quindi oltre al wedding anche la grafica piero chi viene qui diciamo un servizio completo da questo punto di vista comunicazione grafica tutta una serie di cose sì ovviamente sono tutti i servizi interconnessi tra loro oltre a questo va detto che sicuramente si può usufruire del semplice viaggio come del semplice servizio di grafica pubblicitaria come di grafica per organizzazione di eventi allo stesso modo comunque abbiamo citato l'organizzazione di eventi c'è il wedding wedding e l'event il settore di cui si occupa molto bene daniela poi naturalmente abbiamo le ragazze del front office chiare silvia che curano la parte dei dei viaggi l'accoglienza e la gestione della clientela e poi noemi che sta dirigendo ottimamente la sezione grafica la sezione della tipografia interfacciandosi con altri collaboratori esterni devo dire che in questi mesi di difficoltà perché alla fine torniamo sempre lì cerchiamo tu prima citato degli amici che in questo fine settimana faranno delle iniziative delle importanti iniziative però torniamo sempre lì perché sembra che giriamo intorno facciamo che dobbiamo creare dobbiamo necessariamente inventarci tante novità tante iniziative per restare competitivi perché il mercato questo ci impone naturalmente fermarci e cullarci sugli allori non è possibile non è concesso perché le attività la mia come quella di foto di crociere come proprietari di bar hotel ristoranti di ristorazione non possono sicuramente fermarsi a quello che è stato fatto perché comunque un settore tra cui quello quello che cura uno settore che curiamo anche noi che quello della pubblicità impone di essere sicuramente sempre presenti sui social ed impone di essere sempre innovativi a livello di iniziative naturalmente anche questo comporta sempre degli investimenti comporta sempre un qualcosa di dispendioso dove comunque si spera sempre perché torniamo sempre lì si spera di riuscire a recuperarli tramite ora ripeto quello che noi facciamo qui parliamo di viaggi di eventi di grafica per quanto mi riguarda sono tre certezze ovvero sono tre settori che fortunatamente stanno andando abbastanza bene e nonostante questo come dicevo prima non possiamo sicuramente attendere che ti devo dire la stagione estiva per dire ok arriva l'estate adesso lavoreremo di più no bisogna per quanto riguarda l'attività trovare quel bantolo della matassa e dire ok io con questo servizio riesco a lavorare da gennaio a marzo con questo servizio riesco a lavorare da giugno a settembre con questo servizio da novembre a dicembre questo perché è lo stesso discorso che si fa sul turismo perché alla fine è un po' tutto collegato andare magari ad aspettare soltanto la stagione estiva per massimizzare i ricavi e un po' tirarsi la zappa sui piedi perché le tasse le paghiamo tutto l'anno le le spese ce le abbiamo tutto l'anno in maniera costante e quindi dobbiamo sicuramente andare a compensare quelle che sono delle uscite con dei ricavi che però a loro volta devono generare ulteriori investimenti per poter essere competitivi quindi è un po il cane che si morde la coda le attività si dice in questo periodo mi ricordo la frase di un mio carissimo amico quando ha aperto l'attività mi ha detto guarda sei un pazzo ad aprire una partita iva i giorni nostri e ha detto io guarda io ti ringrazio però credo comunque in quello che sto facendo credo nella risposta di questo paese e comunque è sempre stato un paese comunque difficile dove andare a investire quindi chi investe qui già si dice nemmo profeta in patria chi investe nel proprio paese già è coraggioso di suo non che io mi ritenga tale però siccome siamo in tanti a fare questo tipo di attività io penso che in ogni caso la risposta del paese se è positiva se le nostre attività sono apprezzate in primis in casa nostra allora vuol dire che forse stiamo facendo bene. Senti Piero quali sono le richieste maggiori diciamo le mete che vengono chieste maggiormente da chi entra qui in agenzia? Ma beh ovviamente oltre alle crociere che sono diciamo un must per quanto riguarda le nostre zone tra l'altro dico una cosa che forse pochi sanno Calabria e Sicilia sono le regioni dove le agenzie di viaggi fanno i fatturati maggiori a livello nazionale a livello di crociere. La richiesta maggiore è la crociere insomma? Tutti gli itinerari particolari oppure? No proprio dettoci da Costa Crociere che per l'appunto ci ha detto ci ha ringraziato l'anno scorso invitandoci comunque ad un congresso da loro organizzato dicendo guardate voi in Calabria nonostante tra l'altro vedi torniamo sempre al punto di partenza sono stato in questo questo convegno dove ci aveva invitato a Costa Crociere e eravamo un po' quasi tutte le agenzie della provincia ci hanno detto nonostante voi operate in un settore difficile, nonostante operate in una regione, in una provincia che non ha collegamenti di nessun tipo, che non ha freccia rossa, che non ha adesso ora da poco abbiamo anche Flixbus, che non abbiamo navi di crociera in partenza dalle nostre zone, che la più vicina per esempio è la MSC bellissima da Messina, non è lontanissima però è già in un'altra regione quindi ti devi spostare, nonostante questo la Calabria riesce a produrre a livello di agenzie viaggi uno dei maggiori fatturati, se non il maggiore addirittura fatturato in Italia per quanto riguarda i fatturati cost MSC. Questo che vuol dire? Vuol dire che comunque c'è una grande richiesta di questo tipo di prodotto, vuol dire che nonostante tutto penso che lavoriamo abbastanza bene quindi in ogni caso dalle nostre parti si riesce a andare a vendere nonostante le tante difficoltà, nonostante la regione comunque non sia molto benevola a livello di servizi e nonostante questo riusciamo comunque a fare dei numeri abbastanza importanti. Piero noi ringraziamo chi ci sta seguendo, sono tanti, Giuseppina Gambareri, Raimondo Cacciola, Pina Romeo, tanti che ci stanno seguendo, Giuseppe Surace, Careri, Giuseppe il nostro carissimo amico da Roma, sono tanti poi, in ogni caso chi perde la diretta poi a partire dalle ore 11, mezzogiorno può andare sul sito su costaviolanews.it e trova interamente questa puntata e questo caffè che prendiamo assieme a Pier Francesco Zoccali Piero, velocemente, wedding invece offriamo che cosa? Insomma, io arrivo qui, se mi devo sposare trovo Daniela che mi dà tutte le informazioni se devo fare altre cerimonie ed altri eventi, insomma, trovo il personale pronto a soddisfare non dico ogni mia richiesta o ogni richiesta del cliente, però insomma ci si mette tutta Allora, già qualcosa avevamo detto l'altro giorno, tra l'altro ti ringrazio, ho visto la puntata di Calabriaeva Sì, in questi giorni siamo sul canale 17 del Digitale Terrestre con Calabriaeva, abbiamo girato un po' la Calabria, abbiamo portato questa bella esperienza che è la via dei Borghi a Bagnara, la prossima puntata invece siamo stati a Bova, un altro bel borgo della nostra provincia regina, però torniamo all'evento, al wedding, al matrimonio, alle cerimonie e quant'altro Anche lì, diciamo, per essere coerente cerco di collegarmi un po' su tutto, fermo il restando che non abbiamo preparato niente Assolutamente E da due giorni Solo il caffè stiamo preparando, per il resto lo prenderemo alla fine, prima di andare via C'è la moca che sta La moca, già sta riscaldando, sentiamo l'odore, sentiamo l'odore Tanto per dire, da due giorni che mi hai detto faremo il caffè con lì in agenzia da te Però Carmelo non mi ha voluto dire niente di quello che avremmo parlato, quindi per me è un andare a ruota libera semplicemente, anzi mi scuso se magari su alcune cose non sono stato preciso o molto chiaro, ma perché non ho preparato niente Detto questo, hai detto del wedding, l'altro giorno su Calabriae ho fatto una breve spiegazione di come si svolge, anche lì, sempre per coerenza ti vado a dire, è un settore dove non abbiamo inventato niente, non siamo noi ad aver inventato la figura del wedding planner, dell'event planner non abbiamo inventato l'allestimento per eventi, non abbiamo inventato nulla Quello dove comunque abbiamo dovuto inventare qualcosa per cercare ovviamente di attecchire in un territorio dove è una figura abbastanza nuova, non è una figura usuale quella di affidarsi ad un organizzatore di eventi che possa essere un party planner, che possa essere un event planner quello che abbiamo dovuto inventare è sicuramente un concetto aziendale dietro la figura del wedding planner dove sicuramente Daniela non opera da sola ma opera con una sovrastruttura alle sue spalle con un'attività dove naturalmente si fattura, quindi tutto quanto viene fatto con un certo criterio tutto quanto viene fatto con un certo ordine di cose, un'attività dove comunque se così si può dire in maniera molto metaforica hai le spalle coperte perché non è il singolo che tra virgolette si alza la mattina, si improvvisa creatore o altro ma c'è effettivamente un concetto di attività alle spalle di una persona che fornisce sia servizio di consulenza, sia servizio di allestimento per eventi privati o aziendali, abbiamo curato anche inaugurazioni, oltre a questo comunque c'è un servizio di coordinamento che si sostanzia fondamentalmente in una creatività anche di allestimenti veri e propri, chiedo scusa, in una creazione di allestimenti veri e propri che si sostanziano appunto nella creazione del tavolo, nella creazione del segnaposto, dell'invito, ecco perché come dicevamo prima c'è tanta componente… però secondo me alla base c'è tanto un rapporto di fiducia perché quando uno arriva qui magari non ha le idee chiare, giusto, di quello che vuole, di come vuole impostare il suo evento, il suo matrimonio, la sua cerimonia, qui invece un po' se la chiarisce o se ha qualche idea in testa viene un po' sviluppata, questo credo che sia il primo approccio. Sì, diciamo che il primo approccio è proprio questo, ovvero io vorrei organizzare un qualcosa di particolare, per esempio per il mio addio al celibato, non so che cosa fare o comunque ho in mente un temo, ho in mente una maglietta che vorrei fare, ho in mente un allestimento particolare in qualche sala particolare, però ho bisogno di qualcuno che mi sviluppi questo genere di discorso. Naturalmente tutto parte ovviamente da un primo approccio, quindi da una prima consulenza, magari anche un primo sopralluogo della sala per vedere che cosa la sala è consente effettivamente di fare, poi da lì scaturisce tutto il resto, ripeto abbiamo anche tanti collaboratori esterni che sono un grosso supporto sotto qualsiasi punto di vista dalla creazione delle bomboniere, della creazione dei gadget, abbiamo una tipografia perfettamente funzionante dove vengono curate tutte le parti grafiche perché gli eventi in generale hanno una parte grafica notevole, sia a livello magari di creazione di inviti, di partecipazione... E so che tu l'hai attrezzata anche con delle macchine moderne da questo punto di vista, inoltre all'idea, allo sviluppo, alla grafica riesci anche a fare stampe di una certa qualità. Sì, perché comunque bisogna, come abbiamo detto proprio all'inizio di questa chiacchierata, bisogna essere sempre competitivi, bisogna essere sempre presenti, quindi cercare di offrire un'offerta sempre maggiore, ovviamente compatibilmente alle esigenze aziendali, anche alle esigenze del territorio, naturalmente se vengono a chiedere un qualcosa che dalle nostre parti non è molto usuale, ha poco senso dotarsi di, che ti devo dire, di macchinari, quindi andare a fare una spesa enorme per poi non avere effettivamente l'arresa. Quello che noi curiamo all'interno della tipografia, a partire ovviamente dalla stampa offset a salire, tutto quello che serve sia a livello di eventi, sia a livello di grafica, ma anche, che ti devo dire, a livello di personalizzazione gadget e merchandising, delle t-shirt, un po' tutte queste cose che vanno per la maggiore, quindi la personalizzazione, customizzazione gadget, quindi sono quel genere di servizi dove bisogna essere sempre presenti, dove bisogna essere sempre competitivi, dove comunque è un settore dove c'è tanta concorrenza, dove un settore dove, io sono del parere che la concorrenza va sempre stimata, apprezzata e mai temuta, anzi ci sono molte realtà anche più grandi della nostra dove sicuramente la concorrenza è più una giungla, quindi nel caso nostro diciamo siamo abbastanza avvantaggiati da essere un paese anche abbastanza raccolto a livello di cittadini, di presenze e in questo caso comunque possiamo sicuramente beneficiare di una fascia magari di utenza maggiore, in altre realtà bisogna essere un po' più cattivi, bisogna essere cattivi nel senso buono, bruttissima come espressione, bisogna essere un po' più cattivi e quindi magari essere sempre comunque costantemente sul pezzo, perché se non sei sul pezzo la concorrenza ti mangia. Piero noi dobbiamo chiudere perché naturalmente noi stiamo seguendo questa tua esperienza, questa tua attività, la seguiamo come Costa Viola News, la seguiamo come Calabria E, la seguiamo con questi caffè anche perché poi appena so che la tipografia diciamo così non è in questa sede ma in un'altra sede, poi andremo anche lì nelle prossime settimane a prendere un caffè, verremo anche a trovarti con le telecamere di Calabria e insomma ti seguiremo Piero, non è che ti molliamo, hai fatto un contratto con noi, una marcatura uomo sarà questa, però al di là di questo voglio dire c'è un rapporto di amicizie, c'è un rapporto di stima reciproca e quindi è chiaro che ci fa piacere dialogare e conversare con te anche perché tu devo dire lo fai anche abbastanza bene. Noi continuiamo ancora questo nostro percorso, settimana prossima saremo, ricominciamo lunedì, mercoledì e venerdì con i nostri caffè andremo girando un po' in altre realtà imprenditoriali cittadine o in altre realtà turistiche cittadine, sarà un periodo caldo però ci piace promuovere questa nostra terra e lo facciamo con questa nostra esperienza che mettiamo un po' anche noi a servizio e quindi ci piace seguire quando dei giovani investono denaro ma soprattutto investono tempo, investono le loro capacità, le loro potenzialità. Cosa dobbiamo dire ancora Piero? Facciamo un saluto e naturalmente chi vuole perché tra l'altro qui io arrivo per esempio se mi devo sposare, succede io ho già tre figli, però qua dentro trovo tutto perché trovo l'organizzazione dell'evento, trovo il viaggio poi dove qualunque meta io voglia raggiungere e trovo anche poi la grafica per fare tutto quello che mi serve dai libretti, quando esco da qua diciamo che sono sollevato perché tre quarti dei problemi legati al mio evento sono stati risolti. E' proprio questo il senso di WGT Solution, quello di entrare quindi fare magari iniziare a fare inviti e partecipazioni, poi dai inviti e partecipazioni si fanno le bomboniere, poi dalle bomboniere si fa magari si fa l'addio al cielo il vato lupilato, si fa il matrimonio e poi il viaggio di nozze. Anche lì è la marcatura uomo perché seguite il vostro cliente veramente appena entra qui lo prendete in carica. Ovviamente a parte gli scherzi, se non fa il viaggio di nozze se fai il matrimonio o viceversa va bene lo stesso. Sì sì però voglio dire veramente un servizio a 360 gradi naturalmente tutto poi all'interno devo dire anche con le ragazze con una grande professionalità con l'accoglienza da parte tua insomma ci si sente subito viene messa a suo agio perché non entri veramente in un'agenzia molto accoglienta, aperta, lo si vede da subito e poi le ragazze lì ai banconi diciamo al front office come si dice ora in maniera moderna però anche poi Piero insomma e tutti gli altri che collaborano con lui sono pronti e disponibili. Le ragazze diciamo sono state... Ma voi fate ferie quest'anno no Piero? No. Le agenzie non fanno ferie è vero? Lui agosto non possiamo... Ma loro lo sanno lo sanno, sono coscienti. Lo sanno, lo hanno accettato, loro sono state tutte una mia scommessa vinta personale, ho citato prima Daniele e Noemi, cito anche Chiara e Silvia che come ho detto sono il nostro front office, la nostra prima accoglienza, su di loro ho scommesso l'anno scorso, devo dire che mi hanno ripagato per quanto riguarda la fiducia in loro riposta e devo dire che sicuramente hanno contribuito a dare ulteriore slancio all'attività sia a livello di presenza, sia a livello di competenze, sia a livello di idee.